Arrivano le prime anticipazioni del cartellone di Umbria Jazz Winter 24 in programma ad Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio. Nella serata di apertura al Teatro Mancinelli 28 dicembre ore 21 andrà in scena un progetto tutto italiano con Paolo Freso e Gaetano Curreri, voce e leader degli stadio, e con Raffaele Casarano, Sassofono e Fabrizio Foschini a pianoforte dedicato a jazz di Lucio Dalla e Fabrizio De Andrè. Il suggestivo titolo è Le rondi nella luna. Dagli Stati Uniti arriva Ryan Truesdale con la sua rispettosa riproposizione della musica di Gil Evans con Paolo Freso, special guest insieme a Steve Wilson e Lewis Nash. Il nuovo lavoro di Truesdale, che sarà presentato ad Orvieto tra i concerti al Mancinelli, verte sulle pagine originali di due dei quattro dischi che Evans incise con Miles Davis, Miles Heard del 1957 e The Porgy and Bess del 1988. Sono capitoli fondamentali della storia del jazz che Truesdale può permettersi di affrontare con la credibilità che gli deriva da rigorosi studi da una ricerca appassionata sulla eredità musicale di Evans. Paolo Freso, il cui suono evoca Miles forse più di qualunque altro trombettista contemporaneo, è il valore aggiunto del progetto. Vera e propria star del jazz contemporaneo è Christian McGrind, che sarà ad Orvieto come resident artist con l'ultima edizione del suo trio che comprende Christian Sanz al pianoforte e Jerome Jennings alla batteria. Autentico virtuoso sia del contrabbasso che del basso elettrico con 4 grammi vinti ed oltre 300 registrazioni alle spalle, McBride mette in luce con il trio anche le sue capacità di leader. Le prevendite dei biglietti per tutti i concerti cominceranno il 20 di ottobre.